ehi tu non farei progetti non farei progetti Buongiorno, guarda la cortesia, descrivi cosa stanno facendo le signore, dai. Allora, oggi benvenuti in cucina Leone, la terza puntata. Aspetta, le altre puntate quant'è? Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, 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 buongiorno. Mi guardate? Girati, girati!